Non c'è altro, vero? Sì, ci sarebbe di là Aronne Piperno lebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo. Sarebbe giusto, dici? E credo di sì, signor Marchese. E allora, facciamo giustizia. Sì. Fallo venire. Aronne Piperno. Mo' vago. Chi è? Aronne Piperno. Vieni, vieni. Vieni avanti. Riberisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella la poasserie, bella l'armadio, bella le cassa panche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Non hai capito? No. Ho detto, adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo, sto conticino. Ecco. Ecco il conticino. Ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh, che ce faccio? Ma come che ce faccio? I soldi miei. E non ti do. Come non mi da? E come? Vuoi sapere la procedura? Eh, sì, sì, sì. Io i soldi non li caccio e tu ne i becchi. Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo. Credo. Ecco, bravo. Chiamavo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi. Ne raccontano tanto. E allora racconta pure questo. Vi perdi. Ho capito. Forse, eccellenza, vuole un po' di sconto? No. Il Marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga? Io non te pago. Buttalo fuori. C'è qualche cosa che non va, eccellenza. Ma tu, taronna mia. Santo comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che c'ho. Non è una buona ragione questa. Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato il nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto? Ma certo, eccellenza. Cosetti, comunque, se credi avevi ragione, fammi causa. Ma io c'ho ragione. E va bene, se i giudici te la danno, io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono stato per aiutare. Ce li pensi, eccellenza. No, no. Vengo domani. No. Io c'ho famiglia. E io pure. Ma che devo fare? Ce ne devi andare. Cristi nomine invocato pro tribunale sedentes anche nostra me definitiva me sentenzia me emanamus. Addì, 18 febbraio 1809. Accertato dai periti che il lavoro in discussione non è stato eseguito dal piperno Aronne a regola d'arte. Che Eziam, un antico portale, è stato rovinato e diminuito sensibilmente nel suo valore originario. Che Eziam ha provato che il piperno di religione ebraica, per portare a termine quel lavoro, è rimasto fuori del ghetto oltre la chiusura serale dei cancelli. Il tribunale respinge le richieste di piperno Aronne e Ebanista nei confronti dell'eccellentissimo marchese Onofrio del Grillo e lo condanna alle spese di questo giudizio. E per l'idea temeraria e reato contro le disposizioni del coprifuoco ad essere Eziam esposto alla pubblica gogna. Pure. In nomine Patris, et Fili, et Spiritu Sancti, Amen. Amen. Grazie a tutti. Mi dispiace. Ma io so io e voi non siete un cazzo. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardi, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io ricco e cristiano. Comunque, Santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Panti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Hunter von Kuyper, comandante della Guardia Svizzera e dell'abbate di Santa Maria, la Minerva, Don Pierluzio. E basta, oh! Che a voglia? Troppi ce ne so. Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della Guardia Nobile. Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Eh, lo so, Santità. Giustizia dell'altro mondo. Proprio così, figliolo. E poiché noi purtroppo siamo di questo mondo, ti condanniamo ugualmente a trenta giorni di fortezza, dieci giorni per aver mancato di rispetto alla persona del pontefice, fandolo per morto del che facciamo i dovuti scongiuri. Altri dieci giorni per esserti preso gioco della giustizia di questo nostro regno, facendo condannare un povero innocente. No, e quello l'ho risarcito, Santità, voglia. Gli ho pagato tre volte il suo credito. In più gli ho regalato un terreno fuori porta a San Sebastiano. Avesse visto la faccia di Aronne Piperno, non stava più in sé dalla gioia. E vabbè, e quindi te li togliamo e ti diamo un solo giorno. Grazie. Uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario, da te indotto in corruzione. Quanti sono? Chi, i corotti? Sì, quanti sono? Eh, una ventina. E allora i conti tornano.